Grazie a tutti. 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 il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santo Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta. Grazie! Grazie. 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 Riva sempre con noi, oh Signore Grazie a tutti Riva sempre con noi, oh Signore Nel quinto mistero della gloria Contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima Regina degli Angeli dei Santi Padre nostro, che sei il Signore, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo è così bella Riva sempre con noi, oh Signore Riva sempre con noi, oh Signore Riva sempre con noi, oh Signore Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne E benedetta fra le donne Ave Maria piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne E 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 benedetta fra le donne Grazie. 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 Grazie.